benvenuti in questo nuovo video oggi come avete già visto due tre volte faremo di nuovo questo format diverso no velocemente in pochi minuti andando a parlare delle info dei precedenti data book rispetto a quelli di cui vi parlavo sulla taglia di king l'incendio in questo qui questo video di oggi andremo a parlare invece delle info pervenute nel secondo volume vediamo un attimo anche un accenno su quello del primo volume anche se sul primo ci sono veramente poche info di cui discutere invece del secondo sono uscite varie taglie la prima la più importante solamente ricordatevi da prendere con le pinze ricordatevi che dobbiamo aspettare per alcune informazioni quella che è la conferma no all'interno del manga per altre invece potremo anche non dover aspettare perché magari oda non lo farà mai uscire nel manga e quindi le prenderemo per buone no tipo all'altezza all'età queste cose qua insomma comunque partiamo subito con marco la fenice molti si sono chiesti per tantissimo tempo quanto potesse essere alta la taglia del comandante della prima divisione di newgate e lui ha una taglia di un milardo e 374 milioni però non si ferma qui il data bucchi il vive il card di uano infatti ci dice anche la taglia di izo 510 milioni quindi aveva la taglia un po più bassa rispetto a eis anche se quella la di eis era ferma due anni fa abbiamo bell'obbetti quindi abbiamo un attimino adesso quelli che sono i comandanti dell'armata rivoluzionale bell'obbetti a una taglia di 457 milioni a 34 anni altamente 96 quindi già vi posso dire che bell'obbetti dei quattro comandanti che furono presentati insieme alla taglia più alta infatti subito dopo di lei c'è calasu con 400 milioni di taglia a 47 anni 2 metri e 65 l'inbergh 316 milioni 36 anni 1 metri e 49 e poi c'è morley che ha una taglia di 293 milioni a bene e a 160 anni ed è 1253 è un gigante praticamente dovrebbe essere a per cui porta in centimetri quindi essendo tra virgolette 1253 centimetri capite che tra virgolette è un gigante il nome del frutto di carasu non ci viene ancora tra virgolette come posso dire detto nei dettagli anche se ne abbiamo visto che può diventare corvi tutti i corvi ci vengono mostrate varie informazioni dalla carta di marco invece ci vuole la prima appanizione il fatto che l'epidito della fenice il frutto del diavolo tra virgolette non viene fatto nome dell'aghi del re si parla solamente di aghi della percezione aghi dell'armatura l'aghi del re nessuno di loro ce l'ha nemmeno addirittura nemmeno marco la fenice viene menzionata come un possessore dell'aghi del re quindi questa è una cosa importante per chi diceva ce l'hanno tutti ce l'hanno tutti non ce l'hanno proprio tutti nonostante marco la fenice sia un grandissimo guerriero è il frutto del diavolo lo conosciamo no domino giro della fenice abbiamo già detto la questione degli aghi e poi il fatto parla della nave il fatto che stesse già preso parte a marine for di pa il fatto che stava proteggendo l'isola del babbo fatto che ha 45 anni vabbè che due metri ok ci sta eccetera eccetera ci si parla di una spada di gol di roger la sua di gol di roger che non è la stessa di quella di scienze scienze la griffon gol di roger c'è la spada si chiama ace come suo figlio asso incredibile e viene inserita in una delle dodici saggio o azamona una delle dodici di suprema fattura per adesso conosciamo la sua quella di mioc quella di newgate e lasciata chi adesso anche se non diciamo non c'è ancora pervenuto invece parla del loro di roger si dice che all'epoca era era ancora diciamo come lo vediamo noi chissà se oggi è schiuso oppure no è importante avevo un po di informazioni si roger oggi avrebbe 77 anni nato allo che da un c'è del chien l'est blu e poi ci vengono raccontate varie cose ci manda due anni fa si fece il nome come grande pirata 39 anni fa arrivò all'odestar 38 anni fa ci fu la battaglia con i rocks a gold valley 28 anni fa gli arrivò la malattia con la line curabile 26 anni fa quello scontro fa la sua ciume e quella di nuggetti che vediamo nel flashback di oden poi dopo convince oden andrà in ciume con lui 25 anni fa conquista la red rai ne diventa re dei pirati 24 anni fa si consegna il governo mondiale e poi viene giustiziato vabbè tutti i tre aghi a massimo tutte queste cose qua qualche formazione su shank si fatto chi adora i cappelli il fatto che ricevette il cappello da roger ci sono delle info su oden ma più ne sappiamo tutto il fatto che ha l'età della morte da 39 anni 3 metri 82 non si conosce la sua taglia cioè non c'è stata detta quindi chissà se ce la diranno ma poi ci sape altre informazioni di quello che ha fatto da giovane ma quella cena è narrata anche all'interno del manga quindi penso che basta ne avanzano le info narrate da dalla voce narrante non leggete il manga non lo sfogliate mi raccomando poi 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 fatemi vedere qualche informazione di limberg un visone gatto ha fatto varie invenzioni tra cui quella che si chiama cool shooter ok il fatto che può congelare tutto anche l'acqua eccetera eccetera tutte le sue invenzioni sono uniche non importa qual è la situazione ma lui è un grande utilizzatore delle sue invenzioni e quindi riuscirà sempre a cavarsela in qualsiasi situazione e le utilizzerà per vincere e poi ci sono altre cose però nonostante lui sia tra virgolette dicono un grandissimo scienziato anche lui si trova in difficoltà sul fatto di poter recuperare kuma per quanto concerne il fatto che successe a reverie come vi ricordate vediamo 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 qualche altra informazione ad oggi lo scontro che avviene fra roger e newgate nel flashback di odon di oden scusatemi è qualcosa di incredibile perché era la prima volta in assoluto che due lame di suprema fattura si scontravano rendendolo praticamente uno degli scontri anche fra processori di a chi tutti e tre attenzione attenzia tutte e tre a chi forse senza eguali ad oggi c'è praticamente è stato detto che quello forse era il più grande scontro fra chi possessori ed armi che si è mai visto fino a questo momento all'interno del magno naturalmente per oggi però io mi soffermerei sul fatto che vedendo poi c'è delle info su gbeck delle info su su baghi delle piccole info su ticci comandante delle divisioni cos ci rivaliscono la taglia di ticci ma già la conosciamo no 2 miliardi 247 milioni e 600 va bene e vabbè poi qua ci dà qualche informazione kozuki yamatsuki su toki qualche informazione su foderirossi qualche informazione sugli ogoro grandissimo spadaccino su diciamo sull'arma e sul frutto di kanjiro anche questo è interessante su quelli sfrutto di di raizo qualche informazione su asciura d'oggi su den giro o den giro e altre piccole informazioni su kinemon kiku e la moglie di kinemon però la cosa che su cui io mi soffermerei più che altro no vabbè informazioni naturalmente anche sui nuova rashi sul fatto che kobi abbia raggiunto un livello incredibile in così poco tempo soprattutto di aghi dell'armatura che dell'osservazione che sia sempre propenso a migliorare sempre di più e poi c'è una cosa importante alla fine poi ritorniamo sulle taglie che sono fondamentali il fatto che nella classificazione delle spade one piece sembra che ora si sia ispirato a un libro antico scritto e stampato quasi 200 anni fa di kaio kinjaku attraverso il quale all'epoca esistevano 12 spade supreme a cui si raggiungono altre trea perché ci fu un grandissimo spadaccino che le che fece raggiungere tra virgolette queste tre spade all'elenco magico diventandone alla fine 15 in tutta la storia e questo potrebbe essere un piccolo richiamo magari proprio a zoro no che cosa di incredibile però soffermiamoci un attimo noi adesso abbiamo le taglie di molti comandanti abbiamo adesso la taglia di king un miliardo 390 milioni di marco un miliardo 374 milioni di queen un miliardo e 320 milioni poi abbiamo jack un miliardo abbiamo katakuri un miliardo e 57 milioni abbiamo abbiamo smoothie 900 e rotti milioni abbiamo cracker 800 e rotti milioni cosa stiamo vedendo stiamo vedendo che comunque come noi avevamo auspicato come noi avevamo detto come avevamo pensato quella di rufi probabilmente non lo possiamo ancora sapere perché non sappiamo sottoposti di shanks però secondo noi per questo venne anche denominate il quinto imperatore perché forse un miliardo e mezzo e la taglia più bassa solo dopo i quattro imperatori nella pirateria quindi tutti gli altri comandanti stanno sotto a rufi e questo è quello che ne abbiamo sempre ribadito detto ciò come sempre scriveteci qui un commento passate nostri social facebook instagram telegram twitch e youtube e hashtag marco la fenice hashtag marco la fenice solo avete un commento anche da sfogliatori e sfogliatrici vi voglio bene un saluto vi saluto anche il divano nero e chi c'è a fianco al divano nero che non vi posso dire chi è vero perché mi sembrerebbe anche sbagliato dire chi c'è a fianco al divano nero no sembrerebbe anche un po strano dirlo perché già sono cose un pochettino eh così così quindi un saluto vi voglio bene alla prossima